Povero Batman, ha perso tutta, come si dice, l'aura di mistero! Hai via salvato Gotham? Ah, venduta. C'è un pazzo che incatena i cadaveri. Che schifo. Andiamo a vedere. Dammi metà dei soldi che hanno speso per quell'esercito e ti secco Batman in due secondi. Alfred, ho scoperto un altro corpo. Sei vittime, signorino Bruce. Quando finirà quest'incubo? Un'irregolarità sul torace della vittima. Sembra una macchia della pelle piuttosto insolita. C'è una pallottola conficcata nella parte superiore del bicipite. Questo tipo di munizioni è tipico di un fucile da caccia fuori produzione da oltre un decennio. Al piede sinistro mancano alcune dita. Il punto dell'amputazione suggerisce la rimozione di tessuti morti per curare il congelamento. Alfred, ho identificato la vittima, Robert Kincaid. Era un microbiologo che lavorava per Stag Enterprises. Molti credono che la sparatoria fosse legata al fatto che Kincaid era al corrente di una ricerca controversa, ma non ci sono prove. Ha accettato un lavoro come insegnante ad Atlanta, dove è scomparso. Confronta questo con gli altri. Vedi se corrisponde. Affermativo, sir. Le invio le informazioni. Il circo delle stranezze. Recentemente è passato da tutti i luoghi in cui sono scomparse le vittime. Fornisci mi un elenco dei nomi associati. Il circo è gestito da un individuo sospetto di nome Laszlo Valentin. Cerca tutte le proprietà del sospetto, anche in affitto. Il signor Valentin aveva un salone di bellezza in affitto qui a Gotham, ma il contratto è terminato poco prima della costruzione del Wayne International Plaza. Inviami la posizione. Questa storia deve finire ora. Mi mancano i discorsi di Craig. Facevano molto Halloween, ma l'enigmista è più divertente. La milizia è ancora qui. Anche quando gli dai una bella lezione, non imparano mai. È il loro nuovo comandante. Non li lascia andare. Credevo che il cavaliere fosse scappato. Non lui, quell'altro assassino. Ha un conto in sospeso con Batman. E li sta tenendo in riga. Credevo che Bruce Wayne non facesse altro che sprecare l'eredità dei suoi genitori. Ora lo stimo ancora meno. Non lo stimo ancora meno. Tutti sono fuggiti via, spaventati. Gotham si è ramollita senza Joker. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Big, la rende migliore. Big rende tutti noi migliori. È finita. Ma Big, puoi sistemare anche te e farti perfetto, come gli altri. Sei pazzo. Cosa sei tu? Quello che ti fermerà. Cattivo, cattivo, cattivo. Big è come Argilla! Big è come... Io! Big è qui, esisteverà tutti. Ecco fatto, mia cara. Mostragli quanto sei perfetta! Big tirant! E poi? Allora di noi? Che per te! 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 Grazie.